Anzi, lo cerco volentieri, mi dà emozioni, è la cosa più bella secondo me, l'uscita per me è la cosa più bella per un portiere, più della parata, è una cosa che è rischiosa, poi il 90% vai in mezzo agli altri, in mezzo ai tuoi compagni, agli avversari, quindi dai anche una grossa mano ai tuoi compagni, però ti dico la verità, non ho seguito il perugino perché non seguo proprio il calcio in generale fuori dalla mia squadra, quindi non ti so dire se ha avuto un problema con i portieri, sulle uscite, questo non lo so, però non credo che adesso tutti i problemi del peluche siano stati le uscite del portiere, tutti i gol siano stati sui cross, su quale altre, quindi no, dai, mi reputo abbastanza spericolato, nel senso mi piace, lo faccio volontieri, mi riesce, quindi lo faccio.